ciao quando non spingo faccio la forbice così se c'è qualche ramoscello non cade praticamente impariamo il primo passo fuora si riesce a vedere la differenza che c'è tra i primi tre metri e poi quando cambio si brava che tieni questo spiegato si guarda avanti ok questo è l'esercizio della vita con questo esercizio si impara a pattinare si è un movimento giusto si ok il movimento giusto si mi piace che ti sia assestata bene questa forbice l'unica cosa che mi piace di non spaccare la pasta è tanta roba se già hai capito che la forbice ti salva è un caldo è un caldo malato è un caldo microonde è un caldo